pochi anni fa guardate che stiamo dentro ci siete, ci siete e se sono i telefoni ma è scura comunque non c'è luce devi andare un po' più in mezzo eh, muovi vai, vai, vai un po' qui indietro vai indietro, vai indietro ecco qua giratevi a favore siete in luce così entra più in luce ancora però si sa bruciato lì che non voglio sapere niente allora ragazzi siamo qui con i grandi no, siamo qui e basta non vattene nessuno no, allora siamo stati alla presentazione del disco il primo il primo nostro lavoro artificiale finalmente Diego che ha sempre messo l'arte a disposizione degli altri questa volta lo ha messo a disposizione di se stesso veramente è stata la cosa emozionante ragazzi e poi ha lavorato su tutto quello che è l'arte che non bisogna abbandonarla storici pezzi di grandissimo successo rielaborate l'intrescante mamma mia ma la cosa spettacolata è una cosa grande siamo ossessionati da questi bambini che ci stanno seguendo mamma mia tutta la strada alla grande Diego alla grande Diego alla grande veramente tutta a posto auguriamo di girare il mondo di girare il mondo perché lo merita portare la sua bambina lei va da dire comprate il disco un saluto a tutti anche da Giorgio di Gennaro alla prossima buona 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 buona